Il Santo Maso è la città di Nocera, o Nocerina come dir si voglia, pubblico delle grandi occasioni al Roca di Avellino. Certamente non dà eccellenza, Porcaro di testa, o la Dabo, sale il Santo Maso, prova il tiro Tucci, blocca, senza problemi Napoli. Porcaro, Saveriano, cerca Ripoli, Campanile, Ripoli ha la sua letta di apparenza, non esce Napoli, Ripoli è col in aria, prova la girata, palla che si perde sul fondo. Ruscio, caro Danuto, anticipato il sorbo, palla dentro, Sibili in aria, Sibili il tiro, fuori! Il direttore di gara credo abbia concesso un solo minuto di recupero che scadrà esattamente tra 10 secondi, è ancora il cittadino Cera che prova a rendersi pericoloso con Sibili in posizione centrale, prova il tiro, il numero 9, c'è la rete! Il cittadino Cera passa in vantaggio, sono trascorsi 46 minuti e 3 secondi, Danilo Sibili ha inventato il gol della domenica. Taveriano ex di turno, anche Giannattasio, sale apparenza, bravo Sibili a dare palla all'apparenza del cross basso, non ci arriva per un soffio. Cardanuto, palla dell'Iguori, è uno schema, palla dentro, non c'è fuori gioco, Cardanuto il cross basso. Stanno sostenendo dal primo minuto il Santomaso, prova ad accentrarsi, servizio proprio per Maiella, Maiella appoggia per De Liguri, De Liguri serve Gallo, Gallo va via con una finta di un avversario al limite dell'area, prova il tiro, deviazione. Nella stagione di Santomaso è stato a lunghe tante il mio attacco del torneo, palla Dreguri Gallo, va via con l'era Gallo, in area Gallo, cross basso, Maiella, tacco, rete, 2 a 0, Maiella, e che gol! Assist di Gallo, tacco di Maiella. Entra in area di rigore Maiella, alleggerisce per Sibili, è ben appostato alle sue spalle, Sibili mette al centro per l'inserimento di Ruscio, Ruscio stop a seguire! E la sua conclusione viene respinta da Formisano, ha fatto tutto bene Ruscio, ha stoppato a seguire, si è presentato a tu per tu con il portiere avversario ma è stato poco freddo nel momento di concludere. Gallo continua a macinare chilometri sulla sinistra, mette al centro per Sibili, Marcucci! E c'è la terza rete del cittadino c'era! Con l'esultato mai acquisito, non ci sarà molto da recuperare, Lettieri, Lettieri palla per apparenza, cross basso per apparenza, Marcucci liscia, clamorosamente, va da Marcucci, la sfera della sfera Marcucci poi in diagonale, chiude tutto Defeo ma non c'è tempo!